Qui per parlare di una cosa veramente molto molto interessante che ovviamente mi avete consigliato di affrontare in maniera più calma possibile, più serena possibile, anche perché non c'è modo e non c'è assolutamente da parte mia volontà di far polemica per quanto riguarda i nostri avversari. Voi sapete che l'Inter quest'anno stia facendo una bella stagione, insomma si vede l'Inter un po' per capacità di Conte, un po' per la buona vena di Lukaku, un po' per episodi sicuramente favorevoli, l'Inter è lì comunque a pari punti con la Juventus e se la gioca per lo Scudetto, una cosa che non succedeva da un po' di anni. Ma vedendo la gara comunque contro il Napoli, chiunque tra quelli che l'hanno vista mi hanno scritto e mi hanno detto Matt mai hai visto che cosa è successo? L'Inter ha segnato tre gol contro il Napoli viziati da tre errori, un errore di Manolas, un errore di Di Lorenzo e un altro di Meret. E allora dobbiamo parlare un pochino di questa cosa. Partiamo dal presupposto molto semplice, chiunque dica che il Napoli si sia scansato, che l'Inter deve vincere perché vogliono i poteri forti, io non li considero. Perché da Juventino sono abituato a guardare il campo, cioè a me interessa quello che si fa in campo, perché se la Juve le vince tutte, da qui fino alla fine del campionato, loro vogliono vincere. L'importante è che tu sia focalizzato sulla tua stagione, non su quella degli altri. Ma immaginate cosa sarebbe accaduto se noi avessimo battuto il Napoli con episodi di questo, diciamo, rango. Immaginate che la Juventus, invece di battere il Napoli 4-3 con autogol di Coulibaly, su cui ci fecero una polemica impressionante, avesse battuto il Napoli con tre errori individuali in difesa di difensori e giocatori del Napoli. Io mi immagino i titoloni sui giornali della serie, gente che avrebbe persino negato l'evidenza, voglio dire, per capire dove fosse il marcio. Gente che sicuramente avrebbe scritto che il Napoli per potere del palazzo si è dovuto chinare al potente e quindi ha regalato questi tre gol. Quando invece questi episodi sicuramente, diciamo, molto fortunosi capitano all'Inter, magicamente tutto il resto dell'Italia anti-Juventina che sta là pronta per vedere l'Inter non fare in campionato la Juventus fallire, sta in silenzio. In totale silenzio, come se non ci fosse nulla di strano in tutto questo. Ma perché non c'è niente di strano, perché ci mancherebbe altro, non è che sto insinuando qualcosa. Ma cosa sarebbe accaduto se al posto dell'Inter ci fosse stata la Juve? Cosa sarebbe accaduto? Ci sarebbe stato lo stesso trattamento da parte della Stam o tutti avrebbero parlato di Napoli in stato confusionale, di un Napoli che si fa male da solo? Perché probabilmente sarebbero questi i vostri termini, sarebbero questi i vostri linguaggi nei confronti di una partita del genere. Nella maggior parte dei casi in cui una squadra commette tre errori così grandi, non si dice mai nulla giustamente, perché si parla di errore di squadra. Scommetto che se al posto dell'Inter ci fosse stata la Juve si sarebbe parlato di campionato pilotato, si sarebbe parlato di Juventus che ha pagato, si sarebbe parlato di Napoli che è stato minacciato, di squadre che sono state intimidite, eccetera eccetera. Questo per farvi capire quanta malizia ci sia nel vostro modo di vedere le cose, che è assolutamente sbagliato, perché non ricordo nessuno, voglio dire, tra gli youtuber juventini, oppure tra gli opinionisti juventini, tra gli intrattenitori di carattere juventino sportivo, dubitare della partita che ha fatto l'Inter. Certo, puoi dire che l'Inter è stata sicuramente molto, 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 diciamo, graziata da determinati episodi, ma non puoi dire che il Napoli ha regalato la partita all'Inter. Eppure sono sicuro che se al posto dell'Inter ci fosse stata la Juve poi l'avreste detto. Avreste detto probabilmente che la Juventus non era in grado di battere il Napoli senza l'aiuto, anche perché lo avete insinuato per anni contro squadre di minor blasone. Cioè, la Juventus ha avuto praticamente partite contro il Sassuolo, contro il Genoa, in cui voi avete praticamente parlato di regali da parte di queste squadre alla Juventus, poi però quando ci sono dei giocatori che non giocano mai contro determinate squadre state tutti in silenzio. Cioè, è una cosa, voglio dire, che mi fa francamente ridere, mi diverte anche molto, per farvi capire che molto probabilmente avreste bisogno di un po' di obiettività da questo punto di vista, perché quando voi parlate in questo modo, mi ricordate un po' quei bambini quando si prendono in giro a scuola su chi ha lo zainetto migliore, e no, perché il tuo te lo sei preso, quello è quello cinese, no, a me è quello originale, sembra di assistere alle liti tra bambini dell'elementare. Allora, perché non ci godiamo questo sport normalmente, come ce lo siamo sempre goduto? Perché non andiamo a riconoscere i meriti ostri dell'avversario, di tutti, insomma, e non finiamo di insinuare culture del sospetto? Anche perché, se c'è qualcuno a cui servono i regali, quella non è la Juventus, che ha una supremazia tecnica sicuramente più alta. Fatemi sapere.